Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi video sulle ultime novità meteo e molto altro. Sopravvivere all'ondata di caldo record, precauzioni e consigli per affrontare l'estate rovente. Descrizione del video. Benvenuti nel nostro canale, dove oggi vi parleremo di un argomento scottante, l'ondata di caldo record che sta colpendo l'Italia. Preparatevi. La morsa implacabile dell'AFA sta finalmente allentandosi su parte dell'Italia, ma non fatevi illusioni, la prossima settimana ci riserva ancora giorni roventi. Il bollettino del Ministero della Salute è chiaro, le città col bollino rosso sono aumentate, passando dalle 23 di ieri alle 18 di oggi. I forti temporali in arrivo daranno un po' di tregua al nord, ma attenti, al centro-sud, l'aria continuerà a bruciare con punte infernali di 45 gradi centigradi, in Sicilia e temperature comunque sopra i 40 gradi centigradi, in gran parte del meridione e delle regioni centrali. Non abbassate la guardia, perché nei giorni successivi, solo un lieve calo al nord e parte del centro è previsto, mentre al sud, la diminuzione delle temperature non sarà altrettanto significativa. E attenzione! All'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, è previsto un secondo picco di calore, che fa tremare solo a pensarci, 40 gradi centigradi, al centro e addirittura 44-45 gradoci al sud. Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel, entro il 27 luglio, il caldo dovrebbe finalmente attenuarsi, su tutta la penisola. Tenetevi pronti a sopravvivere a questa ondata di calore, ma non dimenticatevi di seguire le precauzioni necessarie per la vostra salute. Eh sì, perché il Ministero della Salute ha riattivato il numero 1500 di pubblica utilità, già attivo durante la pandemia, per fornire informazioni sul calore e ricordarvi le misure da adottare. Affrontate questo caldo record con determinazione e prudenza. Per continuare a scoprire come andrà il meteo in Italia, iscriviti al canale e lascia un mi piace.